Il tragico epilogo a sole 24 ore di distanza da un dramma analogo è stata ritrovata questa mattina all'ora di pranzo priva di vita dai volontari dei Vigili del Fuoco che la stavano cercando insieme ai familiari, una tantotenne di cittadella che si era allontanata dalla sua abitazione di Santa Croce e Bigolina. Il corpo della donna era riverso in un canale a due chilometri di distanza dalla sua casa in via Casonetto. Non è ancora chiaro se l'anziana si è uscita di casa ieri sera o questa mattina all'alba. I familiari hanno detto che aveva a volte momenti di scarsa lucidità. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. La tragedia è simile a quella avvenuta ieri a Santa Giustina in Colle dove nella frazione di Fratte è stata ritrovata priva di vita una 77enne del posto, ritrovata anche lei in un canale vicino alla sua abitazione in via Vicinale Centoni. A ritrovare la donna, anche in questo caso, uno dei figli che era andato a farle visita domenica mattina e non l'aveva trovata in casa. Fatti pochi metri ha notato il corpo, senza vita e in acqua. La vittima, Elena Cecchina, era uscita per una passeggiata sabato sera, forse disorientata dal buio, ha messo un piede in fallo ed è scivolata nel fossato che costeggia la strada, immersa nelle campagne e vicino alla ferrovia di Fratte. Sul suo corpo nessun segno di violenza e il pubblico ministero ha già dato il nulla a osta per la riconsegna della salma ai familiari.